Il senso unico di Viale Gramsci e la rotatoria tra due punti sono le principali novità possibili per il piano del traffico di San Giovanni in questo 2016, un piano studiato però soprattutto seguendo l'idea di prolungare le piste ciclabili all'interno di tutti i confini comunali. Stiamo andando verso la sua adozione e approvazione, sono iniziate le prime discussioni con il gruppo di maggioranza, poi successivamente porteremo il piano del traffico in consiglio comunale. Il nostro piano sarà un piano della mobilità sostenibile, i temi fondamentali su cui ci siamo basati e su cui abbiamo centrato l'attenzione riguardano principalmente il rafforzamento delle infrastrutture legate all'utenza debole. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare delle reti ciclabili connesse, collegate, che abbracciano l'intero territorio comunale, che mettono in relazione il centro storico con l'Arno e il centro storico con i vari quartieri. E appunto la pista ciclabile è uno dei motivi principali per i quali proprio Valle Gramsci e Lungarno Fratelli Cervi possono essere interessati alle innovazioni.